Benvenuti a tutti signori, bentornati in garage con il XSvapo Siamo qui oggi per parlarvi un attimo del Vapitali Ormai il Vapitali ha le porte, mancano solo tre giorni ragazzi Quindi signori, volevamo dirvi io e Stefanello che saremo tutti presenti al Vapitali Io, Stefanello, Ilvisello, Erika e Ale Saremo in giro, non siamo ospiti da nessuno stand Non siamo in nessuno stand, siamo in giro a caso Ci potete trovare in giro, siamo riconoscibili perché abbiamo tutte le magliette di Giacchone XSvapo Quindi ci riconoscete Niente, saremo in giro appunto come normalissimi utenti Faremo il classico vlog Quindi io andrò in giro con la telecamera Io invece andrò in giro con il Gimbal per fare la live della fiera Noi saremo presenti sabato, domenica e lunedì Però a scaglioni Allora sabato ci saremo tutti Domenica ci saremo solo io, Stefanello e Ilvisello E poi Stefanello e Ilvisello si fermerà anche lunedì Vi ricordo che se ci trovate in giro e non avete paura Venite e salutateci, ci andiamo a bere una birra se abbiamo la possibilità Facciamo una foto, facciamo quello che volete Facciamo due chiacchiere che a noi fa sempre piacere Mi ricordo anche che sabato al sabato Mi sembra, non sappiamo bene Non sappiamo quando, se sabato o domenica Comunque siamo ospiti per non si sa quanto tempo Sul palco di Gemplab Che ringraziamo Basta Scatenate le scimmie Scatenate le scimmie E quindi signori Abbiamo fatto questo video solo per informarvi Che noi saremo presenti al Vapiteli Quindi se ci trovate in giro Veniteci addosso se volete Se ci riconoscete, se avete voglia Quindi ci vediamo al Vapiteli Ci vediamo al prossimo video Con l'ultima svappata di Stefanello Falla dai Sa, facciamola Con l'ultima svappata di Stefanello Va bene, ciao I can't wait to leave this town Cause daily I've been feeling down I can't wait to leave this town